L'ecosistema che gravita attorno alla costa Adriatica è messo a repentaglio dal decreto legge Sblocca Italia, che offre via libera a nuove ricerche in mare di petrolio e metano per la rigassificazione, stoccaggio e trasporto sulla terraferma. Una possibilità che sarebbe devastante per la sopravvivenza di molte specie di pesci e per lo sviluppo ecosostenibile della riviera, uno scempio ambientale di proporzioni forse ancora inimmaginabili. Esperti del settore hanno stimato per il solo Molise che l'incidenza delle attività petrolifere passerebbe dal 26 all'86%. Se così fosse i danni sarebbero incalcolabili per la piccola economia turistica agricola della pesca e della balneazione da Vasto fino a Campomarino. Occorre e sostengono da più parti una strategia unitaria tra le regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia a salvaguardia del mare Adriatico. Il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, chiede la sinergia anche degli stati esteri che si affacciano sullo stesso bacino. Croazia, Grecia, Slovenia, Albania, Bosnia, Montenegro e Serbia. All'unanimità il Consiglio Comunale di Termoli ha votato ieri sera contro l'estrazione petrolifera. Sotto accuse i danni irreparabili alle specie ittiche che potrebbero causare le trivelle della piattaforma Rospo Mare, posizionate a 12 miglia dalla costa. Una calcia al petrolio dispendiosa, incostituzionale e secondo le organizzazioni ambientaliste di qualità scarsa. Per tentare la difesa del mare le regioni hanno tempo fino al 31 dicembre.